Ciao! Video review sull'Iconic One della Makeup Revolution. Questa io credo che sia la coppia più spudorata in convergia che esista della Naked 1. Perché dico questo? Perché ha veramente tutti, ma dico tutti, gli stessi identici colori della Naked 1. La Naked 1 appunto ne ha 12 e questa ne ha 12. E quindi è proprio un dupe perfetto di questa, della palette più famosa forse che esista in questo momento, la più conosciuta, la più cacchierata. Questa palette io l'ho presa dal loro sito, makeuprevolutionstore.com, credo. Comunque vi metto appunto il link giù nell'infobox. Costa 4 sterline, quindi all'incirca 5 euro, 5 euro e 0, 5, 3, qualcosa del genere. 5 euro ed è bellissima. Bellissima perché ha una pigmentazione elevata, veramente alta. Non me l'aspettavo, non me la sarei mai aspettata. Devo dire che appena è arrivata, insieme appunto ai rossetti, di cui ho già fatto la video review e vi metto il link nell'info box se volete vederlo, la prima cosa che ho fatto è aprire questa palettina e sfocciarla. Ci sono rimasta completamente a bocca aperta. Cioè io non mi aspettavo una scrivenza così, dei colori così belli. È veramente, veramente ottima. Tra l'altro è completissima questa palette, appunto come lo è la Naked 1, però parliamo di questa. Colori nude, colori matte, ottimi per il colore di transizione appunto sopra la piega. Colori dorati, sia un dorato veramente bello perché non è giallo, ma è proprio un bel dorato. Dei bellissimi marroni, un rosa antico e dei grigi. Si riescono a fare trucchi, secondo me fantastici, sia per il giorno che per la sera. Quindi è fantastica da portare in borsa perché è veramente piccina come potete vedere. Al suo interno trovate anche il pennellino, questo qua con le doppie spugnette che potete appunto o utilizzare o lo sostituite con una matita, un eyeliner, quindi avete il kit da viaggio praticissimo. Ed è appunto bellissima, mi sta piacendo molto. Ho provato gli ombretti sia con i primer che senza. Chiaramente con i primer durano di più, ma è il primer che li fa durare di più. Senza primer mi durano tutta la giornata, quindi sono anche validi, è un validissimo prodotto. L'unica pecca è che non ha lo specchio perché è tutta plastica, anche se devo dire che è carinissima da vedere anche senza specchio. Perché in realtà, devo dire che almeno io, lo specchio delle palettine non lo uso praticamente mai. Ho le palettine con gli specchi, forse pochissime volte ma in viaggio, perché mi trovo scomoda stare così e non mi trovo. Quindi in realtà non mi dà fastidio che non ci sia. Ecco, tocco. Allora, veramente, che dire ragazzi, cioè se siete intenzionati ad acquistare qualche palettina su Makeup Revolution, io dopo aver provato questa veramente ve le consiglio. Credo e spero insomma che siano tutte valide come questa, perché meritano di essere acquistate. Tra l'altro io ero veramente curiosa di acquistare la palette electric della Urban Decay. E visto il costo ho deciso appunto di non acquistarla, anche perché contiene dei colori abbastanza shock. Insomma, non da tutti i giorni. Ho visto che la Makeup Revolution ha fatto una palette identica, quindi con molte probabilità acquisterò quella. E quindi la mia valutazione su questa palette è super iper positiva. Come potete vedere appunto avete visto anche gli swatch che adesso vi metto qui sotto. E che dire, ci sono bellissimi, i colori che possono star bene secondo me sia alle bionde che alle more. Anche idem alle rosse, perché secondo me è veramente la palette perfetta. Cioè che ha dentro un pochino dei tutti i colori che ci possono servire. Questo è la review di questa super palette che tra l'altro è un'ottima idea regalo, secondo me, visto il periodo di feste. Vi mando super bacione nuovamente, vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS